Dopo i fratelli Giovanni e Enzo Brusca, Giuseppe Monticciolo e Vincenzo Chiodo, il Tribunale di Sorveglianza di Palermo concede i domiciliari anche a Stefano Bonmarito, carceriere di Giuseppe Di Matteo. Un altro duro colpo a Cosa Nostra. La sera dell'11 gennaio del 1996, il telegiornale, Giovanni Brusca è condannato all'ergastolo per l'omicidio di Ignazio Salvo. Brusca telefona suo fratello Enzo e gli ordina liberati d'Ucagno Leggiù. Ucagno Leggiù e Giuseppe Di Matteo, 13 anni, rapito, prigioniero per più di due anni in e mezza Sicilia, poi ucciso per vendetta contro il le padre, il pentito di Altofonte Mario Santo Di Matteo, inteso Santino Mezzanasca. Anesso dopo 13 anni gli stessi della vita spezzata, Giuseppe Di Matteo, quasi tutti i responsabili dell'efferato omicidio non sono in carcere perché pentiti. L'ultimo della lista dei graziati è Stefano Bonmarito, condannato a 22 anni perché è stato il carceriere del ragazzino. Bonmarito, originario di San Giuseppe Iato, come Brusca, non nasconterà la condanna perché il Tribunale di Sorveglianza di Palermo gli ha concesso l'affidamento in prova ai servizi sociali. Anche gli esecutori della sentenza di morte di Giovanni Brusca sono fuori dal carcere. A strangolare e poi sciogliere nell'acido di Matteo sono stati Enzo Brusca, Vincenzo Chiodo e Giuseppe Monticciolo. Ebbene, già il 19 maggio del 2003 il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha concesso i domiciliari a Enzo Brusca, condannato a 30 anni, come premio per la buona condotta. Vincenzo Chiodo, invece, non è mai stato in carcere, si è pentito subito dopo l'arresto e adesso sconterà a casa 17 anni. Giuseppe Monticciolo, condannato a 20 anni, ne sconterà 15 ai domiciliari, anche perché lui è stato prezioso per la cattura di Giovanni Brusca. E domiciliari eccellenti anche all'ammandante del delitto, lo stesso Giovanni Brusca, condannato a 19 anni e 11 mesi di reclusione. E adesso a casa con la moglie, sposata in carcere e il figlio. Il cerchio è chiuso. Il cerchio è chiuso.